ciao a tutti ragazzi benvenuti a un nuovo video del soundcheck studio un nuovo video molto veloce molto breve almeno penso per ridare un po di vita a questo canale ci sono stati un bel po di avvenimenti in questo ultimo periodo avevo una mezza idea di ripartire a pieno regime con l'inizio della nuova stagione ad ottobre ma ci sono stati un sacco di impegni tra cui l'uscita del nuovo disco dei reventide mi ha portato via un sacco di tempo e poi ci sono stati un sacco di cose anche problemi tecnici apro e chiudo parentesi per gli amici un pochino più che mi conoscono e sanno del problema che ho avuto ho dovuto cambiare totalmente piattaforma per l'editing di video passando da premiere a da vinci resolve quindi ho fatto un bel po di cambiamenti e questo mi ha portato via un sacco di tempo da non permettermi di poter preparare dei video puntuali ma adesso sto programmando un po di cose un po di novità riprenderemo sicuramente a rifare le vecchie diciamo il vecchio appuntamento delle let's talk insieme a lorenzo billeri stanno già in ponte ci sono già un bel po di cose da dover parlare un bel po di video un bel po di cover riprendiamo diamo veramente il via a una nuova stagione dei video del soundcheck studio mi dispiace se siamo stati un pochino latitanti all'interno del canale ovviamente tutto tutto perché insomma l'attività all'interno della struttura è stata molto movimentata da non permettermi la tranquillità e il tempo ideale per potermi dedicare totalmente a fare dei video anche qualitativamente validi non li ritenevo validi da poter essere pubblicati quindi spero che nel prossimo futuro riusciremo io con i miei e le mie diciamo rubriche insieme ai nuovi collaboratori nuovi insegnanti che sono all'interno del soundcheck studio a creare nuovi contenuti sempre più interessanti e colgo l'occasione per ringraziarvi ancora per essere sempre numerosi all'interno del canale un canale che è nato un po in maniera spontanea come archivio di tutti i video del soundcheck studio ma che piano piano ha creato interesse vedo che ci sono sempre più persone che seguono il canale per questo sono contentissimo e vi ringrazio quindi questo era un breve video proprio per dare questa ripartenza e quindi ci vediamo prossimamente con i nuovi video qui sul canale del soundcheck studio vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto almeno avete le notifiche quando uscirà del nuovo materiale e iscrivetevi anche sul canale tiktok del soundcheck studio perché anche lì ci potrebbero essere delle novità prossimamente quindi cercherò di tenervi aggiornato un po su tutte quelle che sono le nuove iniziative le nuove attività i nuovi corsi soprattutto qui al soundcheck studio un saluto e al prossimo video ciao ragazzi grazie 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 grazie